Mezza dozzina di latitanti o pregiudicati che hanno violato gli arresti domiciliari sono stati catturati e tradotti in carcere durante questi giorni di festività. Operazioni che sono state il risultato di una intensificazione di controlli straordinari sul territorio da parte dei carabinieri, in particolare di quelli di Fano che hanno fermato un 36enne foggiano che aveva più volte violato gli arresti domiciliari dopo che nel 2018 fu sorpreso in possesso di 2 chili di marijuana. Revocati i domiciliari si sono aperte le porte del carcere di Villa Fastigi, idem per un pesarese di 25 anni che deve scontare un anno e sei mesi per i reati di resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento commessi nel 2017. Due analoghi arresti anche da parte dei carabinieri di Fossombrone dove a finire in manette sono stati due marocchini, uno di 36 anni che dovrà scontare tre anni e due mesi dopo essere stato sorpreso nel centro forse sempronese con 65 grammi di cocaina, due anni di reclusione per spaccio anche al connazionale di 31 anni. Importante operazione anche da parte dei carabinieri di Coglie al Metauro che hanno arrestato un macedone di 28 anni destinatario di un ordine di carcerazione ma che si era reso irreperibile da tempo. Il pregiudicato è stato rintracciato e incarcerato a Pesero e all'atto del fermo aveva esibito documenti con generalità diverse ma i carabinieri attraverso l'analisi delle impronte digitali hanno appurato che si trattava della persona ricercata così come si è appreso che l'uomo aveva effettivamente richiesto al proprio consolato il cambio delle generalità. Dovrà scontare la pena di tre anni e sette mesi di reclusione e la multa di 14.200 euro essendo stato coinvolto in un'importante indagine portata a termine dai militari fanesi nel 2017 che permise di sradicare una fiorente attività di spaccio di cocaina, marijuana e hashish posta in essere dal macedone insieme ad altre quattro persone fra Fano e Coglie al Metauro. Infine i carabinieri di Marotta hanno incarcerato un 26enne del posto per aver più volte violato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale al quale era stato sottoposto dopo l'arresto operato nei suoi confronti nel gennaio 2021 quando fu sorpreso a cedere cocaina nell'abitato di Marotta.